in questi giorni ho visto sempre un numero maggiore di militari presidiare strade e le piazze le nostre strade le nostre piazze accelerare il processo vuole dire fiduciare ed impaurire le masse con il biocipi installato nel corpo il controllo mentale sarà totale ed assoluto ammetto che questa dell'esercito è l'unica soluzione praticabile dalla curva alla tomba li riempiamo di stronzate per farvi vivere nella paura nuovo ordine mondiale ehi un po' di piazza cazzo cazzo non si sono niente niente noi siamo la polizia siamo la legge non possono fermarci non finisce qui torre commissario turre sarà sul posto tra pochi secondi pulite risolveremo tutto pulite risolveremo tutto new world order un film dei fratelli ferrara e cupola buona buona il